allora oggi è il primo giorno di primavera come va mi prendo la mia solita postazione girato al contrario di schiena per il solito problema microfonico di filo corto che non ancora risolto ma non so neanche quando e se lo risolverò perché a me sto microfono piace un sacco il fatto che voi mi vediate di schiena non è che mi interessi più di tanto perché tanto io sono bello tanto davanti quanto di dietro quindi il problema dov'è il problema è solo nei contenuti contenuti escono allo stesso modo sia che io sia girato in un modo sia che io sia girato in un altro allora a questo punto il problema non sussiste con il caro vita sto cercando di risparmiare anche quei due soldini di un cavo comunque se volete regalarmi un cavo lungo circa un 8 metri un cavo con gli attacchi canon maschio da una parte femmina dall'altra in modo che si possa collegare da una parte al microfono e dall'altra al mixer voce che entra nel computer regalatemelo pure non c'è nessun problema scrivete a evolutore chiocciola gmail.com e ci accordiamo mamma mia come ci siamo ridotti a scroccare un cavo in in diretta vabbè dai scherzi a parte la primavera fa anche questo ci ritroviamo per il solito appuntamento settimanale dove io vado a portare una mia riflessione sulla lettura del vangelo della domenica in questo caso di domenica 20 di marzo che era ieri poi chiaro che se ascoltate questo video tra una settimana tra un mese tra un anno tra dieci anni non è più ieri però vabbè domenica 20 marzo 2022 allora mettiamola così siete pronti all'ascolto del vangelo dopo seguirà una mia riflessione ma voi potete fare anche le vostre riflessioni e potete scrivere a evolutore chiocciola gmail.com e poi ne parliamo si possono fare tante cose insieme se ne avete voglia se non avete voglia è un altro discorso io le mie cose che voi ci siate o che voi non ci siate le faccio anche da me se poi c'è collaborazione bene se no non è un problema si prosegue nel proprio cammino buon ascolto con il vangelo ci sentiamo tra poco dal vangelo secondo luca in quel tempo si presentarono alcuni a riferire a gesù il fatto di cui galilei il cui sangue pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici prendendo la parola gesù disse loro credete che qui galilei fossero più peccatori di tutti galilei per aver subito tale sorte no io vi dico ma se non mi convertite perirete tutti allo stesso modo o quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di silue e li uccise credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di gerusalemme no io vi dico ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo diceva anche questa parabola un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti ma non ne trovò allora disse il vignaiolo ecco sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero ma non ne trovo taglialo dunque perché deve sfruttare il terreno ma quello gli rispose padrone lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo i concime vedremo se porterà frutti per l'avvenire se no lo taglierai vi sono due riflessioni importanti su questo brano del Vangelo che mi sento di condividere con voi la prima chiaramente si chiede a Gesù come mai come mai questo spargimento di sangue provocato da Pilato e Gesù risponde ma pensate che questi siano stati più peccatori di voi no se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo ed è un messaggio molto importante questo più che mai oggi questo brano del Vangelo dovrebbe risuonarci non solo nelle orecchie ma dovremmo sentirlo nostro anche nell'anima perché dico più che mai oggi perché la storia ci sta insegnando che noi continuiamo a ripetere gli stessi errori senza nemmeno accorgercene perché la materia ci porta di per sé se la escludiamo dall'equilibrio universale e dalla nostra linea spirituale la materia la materia di per sé ci porta a compiere sempre gli stessi errori noi oggi non dobbiamo stupirci di una guerra in corso se il nostro modo di ragionare scusate è di vedere il mondo l'economia e le persone allo stesso modo in cui lo si vedeva esattamente ai tempi di Gesù Cristo e dico allo stesso modo perché fondamentalmente il modo di pensare è ancora quello visto i tempi vista l'evoluzione tecnologica si è affinato ma la base è ancora quella materiale quella capitalistica quella della ricchezza superficiale quella di vivere il momento quell'attimo di felicità non duraturo legato a un effetto o a un oggetto materiale il modo di pensare che noi abbiamo oggi è ciò che avevano i farisei allora non è cambiato e le cose non cambiano vi sono ancora guerre vi sono ancora persecuzioni vi è ancora la linea dominante del pensiero unico del più forte che deve sovrastare tutti della competizione vedete che non è cambiato nulla e allora più che mai il Vangelo di oggi diventa attuale se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo se non si cambia direzione ce lo dice chiaramente Gesù periremo tutti allo stesso modo con le medesime sofferenze anche oggi vi sono costrizioni e ricatti certo in formule diverse con modalità diverse ma la base è sempre quella pochi devono avere tutto il possibile a discapito di molti e vedete che non è che andiamo molto lontano rispetto al modo di pensare dei farisei ci troviamo oggi in una situazione dove veniamo continuamente ricattati messi in competizione ipnotizzati da un pensiero unico e dominante privo di logica privo di morale privo di anima privo di spirito ricco esclusivamente di capitale di capitalismo smettetela di pensare che le guerre si facciano perché c'è un cattivone che a un certo punto si sveglia un mattino e dice ma vabbè oggi sono incazzato faccio la guerra no le guerre si sono fatte e sempre si faranno per poteri economici per equilibri economici perché qualcuno è intenzionato a detenere il potere più di un altro ed ecco che calza pennello se vi convertite perirete tutti allo stesso modo se noi diamo adito a questo sistema di continuare a esistere non ne usciremo mai e certo non saranno i potenti ricchi che stanno meglio di noi con tutti i loro privilegi e tutte le loro possibilità e opportunità che noi non possiamo avere o perlomeno crediamo di non poter avere perché ci hanno intorpidito ipnotizzato con i loro messaggi subliminali con la televisione e i giornali che oggi sono la droga peggiore oggi sono la droga peggiore i giornali e la televisione l'informazione di regime è la peggior droga che possa esistere sul mercato e non viene nemmeno venduta gratis oltretutto pur essendo la peggiore perché la paghiamo pure questo ci porta a continuare nel solito vortice e allora direi che più che mai è attuale questo messaggio se non ci si converte se non si cambia direzione se non si entra in una dimensione umana e spirituale periremo tutti allo stesso modo e la prima tranche di questa riflessione direi che possiamo concluderla in questo modo ognuno di voi ne tragga le proprie considerazioni e conclusioni personali il secondo punto molto importante è la parabola inserita in questa lettura evangelica che è quella dell'albero viene piantato un fico in un vigneto che però non dà frutti e dopo tre anni il padrone dice vabbè cosa me ne faccio di quest'albero sfrutta il terreno non dà frutti lo taglio e il vignaiolo dice ma no diamogli un'altra opportunità lascia che gli zappi attorno e che gli renda una situazione un po' più favorevole se poi proprio non darà frutto lo taglierai diamogli un'altra opportunità cosa ci dice quest'altro bel messaggio beh ci potrebbe dire tante cose ma voglio prendere la via più semplice almeno quella che a me sembra più semplice poi se non è così me ne suggerirete una voi se ne avete voglia e tempo la via più semplice è questa noi siamo qui oggi in una certa situazione chi magari ha delle difficoltà chi magari ne ha altre chi economicamente se la passa ancora bene chi se la passa male chi è in salute chi non è in salute chi si sente padrone di sé chi non si sente padrone di sé soltanto le situazioni nella vita in cui non si potrebbe trovare ma ogni giorno pur essendo pur essendo in una certa situazione ogni giorno della nostra vita è rappresentato dal vignaiolo che sta curando il vigneto che dice al padrone diamogli un'altra possibilità ogni giorno ogni momento della nostra vita ci regala attraverso le varie esperienze attraverso ciò che ci viene offerto ogni giorno l'opportunità di poter crescere se noi a patto che noi impariamo a prendere ogni cosa come opportunità creativa e di cammino evolutivo di crescita evolutiva solo in questo modo e non vi è altra via per rinnovare ogni giorno questa possibilità noi possiamo utilizzare ogni momento della nostra vita per cercare di renderci felici realizzando ciò a cui teniamo oppure possiamo passare i giorni e i momenti della nostra vita vivendo tutto ciò che ci suggeriscono di vivere senza metterci del nostro ma attenzione perché ad un certo punto qualcuno deciderà di tagliare l'albero cioè ad un certo punto la nostra esperienza terrena terminerà e allora l'unica cosa che ci potremmo portare l'unica perché non potremo portare nulla quando lasceremo questa esperienza terrena non potremo portare delle ricchezze non potremo portare ciò che abbiamo realizzato non potremo portare quasi nulla una cosa la potremo portare una sola cosa che porterà la nostra anima nel passaggio la nostra esperienza di vita la nostra capacità creativa e qualcuno se noi avremmo creato qualcosa o avremmo lasciato un'impronta nostra vera genuina ma anche significativa incisiva fosse anche in un solo essere vivente questo è rimarrà e continuerà a vivere e stabilirà sicuramente un collegamento un ponte tra chi continuerà a far vivere ciò che noi abbiamo creato fosse anche solo il sorriso regalato a una persona in un momento difficile con ciò che la nostra anima porterà dall'altra parte continuando il proprio percorso evolutivo ogni giorno ogni momento anche adesso possiamo decidere di cambiare anche adesso in questo momento possiamo decidere di vivere secondo modello stabilito o di vivere secondo gli interrogativi che sentiamo nel fondo del nostro cuore e dentro la nostra anima prima che il padrone decida di tagliare l'albero anche qui non credo sia il caso di aggiungere oltre vi ricordo l'indirizzo mail se volete scrivermi per commentare per dirvi che tutto questo vi piace che vi piacciono queste mie riflessioni per dirmi che vi sto raccontando una serie di cazzate non è un problema mio è un problema vostro io in quello che vi racconto ci credo per dirmi tutto quello che volete evolutore chiocciola gmail punto com vi auguro una buona settimana un buon inizio di primavera la primavera fa rifiorire volendo anche noi stessi anche la nostra anima direi di approfittarne vivete il più possibile all'aria aperta godetevi i raggi di sole tiepidi l'aria che per quanto se ne dica sia ormai abbastanza impura ma è sicuramente sempre meglio quella esterna di quella interna non credete non credete che vi dice il contrario certo magari l'aria di un centro cittadino no ma fare una passeggiata in campagna per chi ne ha la possibilità o in un parco è sempre buona cosa apre i polmoni ma può aprire anche l'anima e il cuore concentratevi sui suoni della natura sulle voci dei bambini che giocano se ne sentite e osservate il loro modo di giocare la loro spensieratezza la loro genuinità la loro felicità temporanea nel momento in cui giocano ricordando che siete stati anche voi bambini che avete vissuto anche voi quei momenti e che forse oggi non siete più capaci di vivere chiedetevi il perché chiedetevi il perché qualcuno vi ha proibito ad un certo punto di essere bambino e di dimenticare il bambino che voi siete stato se non ci sono novità e non mi vengono altre idee buona settimana ci sentiamo alla prossima per un altro commento al Vangelo grazie a tutti grazie a tutti